Da una parte sì, dall'altra è umano e dall'altro la miglior chiave per iniziare è iniziare da noi stessi. Cioè chiederci noi quanto siamo realmente congruenti tra quello che diciamo e come agiamo, tra i valori che abbiamo e le decisioni che prendiamo. Perché poi è quello veramente il punto di partenza. Se noi cominciamo ad essere veramente allineati rispetto a chi siamo, acquisiamo un potere che è veramente superiore a quello che abbiamo oggi. Ok? E' quello un po' a cui aspirare. E la mia esperienza è che quando tu hai dei leader in un'organizzazione che sono centrati e che quindi questo attaccamento alle persone c'è innanzitutto verso loro stessi, in senso positivo non in senso egocentrico, generalmente poi vedi che poi l'organizzazione è un'organizzazione in cui si presta attenzione all'essere umano. Perché innanzitutto c'è una consapevolezza al vertice. C'è un detto che si usa nel mondo dello sviluppo organizzativo che dice che tendenzialmente un'azienda non potrà mai andare a uno sviluppo evolutivo superiore a quello del proprio leader. E' un po' una regola che c'è nei temi di sviluppo organizzativo. Ora non esistono le verità assolute ma è abbastanza evidente che se c'è un leader che è molto forte e che ha un certo livello di attenzione su alcuni aspetti questo influenza tantissimo tutto il resto dell'organizzazione ed è una realtà nel contesto che va accettata. E rispetto a questo uno prende le proprie decisioni in coerenza con se stesso. Ok?